Il caso è ufficialmente aperto. Limolese non ci sta e crea una profonda frattura con l'amministrazione comunale per quanto riguarda le precarie condizioni in cui versa lo stadio Romeo Galli. Contro il Renate, l'erba incolta e ampie macchie di terra secca unite alla scarsa illuminazione hanno creato uno spettacolo indegno non solo per i calciatori ma anche per gli oltre mille spettatori che hanno affollato i gradoni dell'impianto obsoleto. Il presidente Lorenzo Spagnoli si è detto pronto a lasciare il club. Abbiamo un campo da amatori, abbiamo lo stadio che è da amatori, amatori. Se non ci meritiamo neanche un terreno di gioco adatto per giocare a calcio io piglio e me ne vado a casa. A casa perché c'è una cosa di qua fanno le firme e lo stadio lo sapete tutti. Non abbiamo neanche un campo, un terreno da gioco adatto per giocare a calcio se diamo fastidio noi ci leviamo dalle palle. Ma ci leviamo dalle palle perché è uno schifo vedere un campo del genere. È una vergogna. Non ci meritiamo nemmeno un terreno di gioco adatto per giocare a calcio.